Ciao amici di Interrap, puntata piena di novità quella che sto per presentarvi. La prima è evidente, non siamo nello studio di Roma ma siamo in trasferta a Pescara perché siamo venuti a trovare il papà di BIC, Luca Giansante. Questo è lo studio di Medea Videolinguaggi, specializzata in video e animazione 3D. L'altra novità della puntata riguarda la prima parte della trasmissione, tutta dedicata ad uno speciale sulla Sapienza Digital Library. E poi ci sarà una sorpresa, infatti verrà in studio qui a trovarci Bruno Denisco che ci farà il punto sulle energie rinnovabili. Gli altri servizi a corredo della puntata parleranno di Cyberbullismo con il progetto Generazioni Connesse e Domotica con le soluzioni proposte dalla Softime. Per chiudere in bellezza, una clip registrata durante il workshop fotografico del nostro Gianni Iovacchini, Scatti di bellezza. Pronti a partire? Andiamo!